Biancaneve e la regina buona. The Baby. Anni due. Tre mesi abbondanti. Commenta in tempo reale la visione del film Biancaneve di Walt Disney. Ora 22. Io scrivo. Il film era già iniziato, partiamo dalla scena dello specchio, da cui la decisione della regina cattiva di fare l'alchimia, inventare la mele incantata che, se mangiata, addormenta per sempre. La regina cattiva è molto arrabbiata, pronunciando una formula e solvendo una pozione, tramuta la sua immagine in quella di una vecchia strega. La metamorfosi. Bambina. Mano. Naso. Occhi. Si trasforma in una vecchia. Una goccia nera e densa come china è immessa in un bicchiere d'acqua trasparente che rapidamente si oscura, come notte buia pesta. Alla vista di questo prodigio, la bambina fa un sussulto, piccolo, e si è spaventata. Non l'aveva ancora fatto. L'invasione del nero non le è piaciuta. Non l'abbiasimo. Le chiedo se vuole continuare la visione, seduta sulle mie gambe. Lei risponde di sì. Bambina. Teschio. Naso. Occhi. Io penso. Ecco i nani. Che strani. Che aspetto antico. E poi, perché sono sette? Questo numero è sospetto, occulto. Tolkiniano. C'è una certa nordicità esoterica. Sono assessuati? E da quali creature sono nati? Sono tutti vecchi, tranne uno che è infante. L'unico bambino nano, forse un bambino vero. Ma chi è suo padre? Uno di loro? No. Non sono assessuati, perché a tutti loro piace biancaneve e allo stesso modo. Ne sono fortemente attratti, innamorati. Vogliono il suo bene, è puro, è i suoi servigi. Ma lei non è la loro mamma. A lei offrono i loro letti. Qui i nani non hanno poteri magici. La loro è una società che collabora in accordo su tutto. Uno soltanto è l'elemento diverso, l'oppositore, quello che erroneamente avevamo sempre confuso con il bastian contrario, Brontolo. È in grado, perfino, di dissentire al canto di biancaneve, mentre gli altri sei vanno in estasi ai suoi gorgheggi. Egli è critico verso quella figura perfetta capitata lì per caso, portata dalla sventura, misto diamante, mamma, oggetto del desiderio impossibile, musa, donna da amare collettivamente. Un titolo. Biancaneve come grande fratello dei sette nani. Simpatico questo Brontolo. Chissà poi cosa succederà quando si incazzeranno tutti con la strega. Si rovescerà tutto. A quel punto magari non saranno più in disaccordo in nome della ragione condivisa di sconfiggere il maligno. Anzi, secondo me sarà così. Brontolo guiderà la rivolta. In fondo è il più capace di moralità. È l'adulto tra i nani. È l'unico possibile amante per Biancaneve. Il suo linguaggio ha una sintassi più evoluta. È il bambino nella fase del no. Almeno spero sarà così. I nani, che di giorno estraggono pietre preziose dalle montagne, la sera festeggiano la loro felice condizione da pagamento. Potrebbero essere artisti. Bambina. Giocano. Papà. Ballano. Suona il piano. Tu, papà. Ballano. Don me cucciolo. La mosca, la mosca. La mela è pronta. È bella, rossa, invitante. La strega ritorna. Bambina. Mela. Prende la barca. Scrivendo. Papà. Io. Sì, quello che dici tu, mentre guardi il film. Bambina. Ecco. Io penso. È andata come credevo. Tra i nani c'è una gerarchia. Brontolo è il capo nel momento del vero bisogno fuori dall'ozio. Bambina. E cade da montagna. La strega è sconfitta, ma Biancaneve sembra morta. Bambina. E piange. Papà, piangono. E piange anche cucciolo. Io penso. Sarà contenta la bambina per la morte del male? E crede che se ne sia andato per sempre? Ora i nani amano Biancaneve, anche nella morte, che solo noi sappiamo essere apparente. Stanno lì a piangerla religiosamente, venerandola. Oppure questo è un rituale che i nani attuano per rianimarla? Anzi, per materializzare il principe salvatore in cui si identificano, che verrà per consumare l'amore? Avessi scritto io la storia, forse avrei trasfigurato i sette nani nel principe azzurro. Tanto nelle fiabe è ammessa qualsiasi metamorfosi. Ma forse sarebbe stato un fiasco. Invece no. Loro vogliono che lei sia amata da un altro, comprendono il suo desiderio, che però lei aveva espresso mangiando la mela. Vuoi dire che è mangiando la mela che Biancaneve realizza il suo sogno, l'ideale di felicità? Se è così, allora, accadendo in tentazione, ha salvato non solo se stessa, ma tutto il reame, nani, animali compresi. Ha creato la condizione per cui la strega sarebbe morta, ma il male? È sparito per sempre o piuttosto è stato sedato in un sonno apparente, sbloccabile a tempo. La fanciula era stata dapprima risparmiata dal servo e la sua sorte era toccata ad un animale innocente. Poi ha beneficiato della devozione sotto missione servile dei nani. Ha potuto assaporare la mela del desiderio, ha dormito per intere settimane senza invecchiare. Finalmente, soccorsa, le vengono conferiti felicità e amore eterni. In pratica nulla le è stato negato, forse per il semplice fatto di essere bella, la più bella. È veramente così virtuosa, Biancaneve? Allora quella regina che confeziona la mela del desiderio, piuttosto mela del destino della salvezza, non è proprio così cattiva. Biancaneve si salva senza volerlo. Mangia la mela senza volerla mangiare. Desidera il principe, ma lo fugge, ottenendolo grazie alle forze nemiche. Tutti desiderano qualcosa, ambiscono a qualcosa o a qualcuno. La regina vuole semplicemente recuperare se stessa. Ma la volontà di si destinatrice è nella mela, non nella strega, non in Biancaneve, tantomeno nel principe. Al limite, nei nani che, come drammaturghi, offrono il loro mondo, i modi, i tempi, gli ambienti, le misure e le musiche, e infine lo stile, per fare sì che tutta la vicenda sia possibile. E c'è un'altra storia dove il potere è nell'anello, non in chi l'ha forgiato. Chissà se qualche bambino si identifica nella strega. Biancaneve, quando viene portata via dal principe con cavalli bianchi alati verso il castello tanto agognato, sembra trapassare. Bambina. Cuore, papà, cuore.